Ciao a tutti! Oggi vorrei fare un paio di chiacchiere assieme a voi riguardo ad un argomento un po' spinoso. Il cosiddetto blocco del lettore colpisce veramente chiunque, ma che cosa succede quando è il book blogger o comunque quella persona che parla di libri online attraverso i social, il blog, il canale YouTube, eccetera, ad avere il blocco del lettore soprattutto? Cosa succede quando è proprio l'attività di book blogging a provocare il blocco del lettore al blogger? Ebbene sì, il blocco del lettore colpisce veramente chiunque, anche chi parla di libri online. E anzi, in questi sei anni di, diciamo, attività, ne ho viste un po' di tutti i colori, soprattutto confrontandomi anche con i miei colleghi, lo so, ci sono tante virgolette, ma passatemi questi termini, mi sono accorta che spesso da parte di chi condivide online le proprie letture per passione, consigliando, insomma, dei libri o facendo recensioni, si rischia spesso di essere vittime del blocco del lettore proprio a causa di questa attività. Che cosa succede dunque a questo punto? Si ferma totalmente l'attività del blogger? Come fa a superare questo scoglio? Da che cosa può essere dovuto questo momentaneo non volere o non riuscire a leggere, a continuare a coltivare la propria passione come lo si faceva invece un tempo? Vorrei focalizzarmi su questi aspetti e raccontarvi un po' anche quella che è la mia esperienza al riguardo. Di solito quando si è agli inizi, si è appena aperto l'account su Instagram, si è appena aperto il blog o il canale YouTube in cui parlare di libri, in genere va tutto una meraviglia. Si è super carichi, super entusiasti, si ha tantissima voglia di fare, di leggere, di condividere quanto si è letto e si inizia anche ad approcciarsi al mondo delle editorie. Iniziano quindi le prime collaborazioni, iniziano a ricevere libri in digitale, in cartaceo, comunque in omaggio da parte delle case editrici. Si è sempre più contenti di questa attività. Ma man mano che va il tempo le cose cambiano perché giustamente curando i propri contenuti magari si cresce, si iniziano delle collaborazioni anche con altri colleghi, le collaborazioni con le case editrici magari nel frattempo crescono, ci sono sempre più richieste e soprattutto all'inizio è molto difficile magari dire di no, fa gola un po' tutto, basta ricevere qualche cosa gratis, no? Si pensa anche che ricevere qualcosa gratuitamente da parte di un'azienda, in questo caso dalle case editrici o dagli autori stessi, equivalga un po' a una sorta di riconoscimento della propria attività, del proprio ruolo di book blogger o book influencer. All'inizio ci sentiamo importanti come se il nostro lavoro appunto fosse riconosciuto, pensiamo di essere importanti, di valere qualcosa e quindi inizialmente anche se un titolo magari non è proprio nella nostra comfort zone, non è proprio l'ultima uscita che attendavamo, si tende a dire sì quasi a tutto. Ed è questo secondo me uno dei grandi problemi che si portano avanti tantissime persone anche a distanza di molto tempo, il dire sì a tutto, accettare qualsiasi cosa a prescindere purché sia ricevuto appunto gratuitamente. Un po' come vi dicevo perché magari è una sorta di conferma nel blogger, nell'influencer, no? Quell'azienda, quella case editrice mi ha contattato, ha contattato me, vuole regalare qualcosa a me perché magari si fida del mio giudizio, perché crede in me, nei miei contenuti, perché allora valgo qualche cosa e magari si pensa esclusivamente a questo e non al fatto che così come vieni contattato tu vengono contattate altre persone perché lo scopo è promuovere questa ultima uscita e spesso alcune case editrici fanno riferimento più che altro ai numeri, alla visibilità perché loro devono cercare di far vendere quel libro, metterlo in vetrina. Ci sono poi sicuramente tante case editrici che più dei numeri valutano l'interazione, la community che il blogger o l'influencer si è creato o che valutano proprio il genere di libri e di fumetti di cui tratta una data persona e il modo in cui sviluppa le sue recensioni, i suoi contenuti riguardo ai libri e ai fumetti. Poi molto spesso questi due approcci si incontrano e quindi ancora meglio. Arrivati però a questo punto molte persone si sentono sotto pressione perché magari sono arrivati due o tre libri dalle case editrici, magari non si è avuto tempo di leggere tutto subito e quindi ci si sente in dovere di leggere prima appunto i nuovi arrivi arrivati gratuitamente e soltanto dopo magari quelli acquistati personalmente. Se poi capita che per qualche giorno si è fermi e non si legge per via del lavoro, poco tempo, poca voglia, impegni, eccetera si inizia a pensare, oddio adesso non ho un post da pubblicare, adesso di che cosa parlo, non ho letto nulla quest'ultima settimana quindi che contenuto produco e nel frattempo è uscito quest'ultimo libro, mi è stato inviato, lo devo leggere. Anche perché se non lo leggo subito poi la mia recensione, chi la legge? Così come l'ho ricevuto io il libro, l'hanno ricevuto tantissime altre persone, giustamente. Si crea quasi una sorta di competizione, chi fa uscire prima il contenuto sul libro, anche per acquisire maggiore visibilità perché chiaramente una persona può andarsi a vedere recensioni di persone diverse perché quello che io sostengo è che al di là di un parere oggettivo sul libro che può essere semplicemente, che so, grammatica, punteggiatura, alcuni fatti noi siamo come un filtro, quindi se io leggo un libro per come sono fatta io che sono diversa da qualsiasi altra persona potrò coglierci delle cose e una persona che è ovviamente diversa da me e non uguale a nessun'altra ci vedrà delle altre cose quindi le persone sicuramente andranno a vedersi con le due o tre recensioni di persone magari differenti per vedere, di punti di vista diversi ma non si andranno a vedere tutte, tutte, tutte le recensioni magari si andranno a vedere le prime recensioni che usciranno sull'ultimissima novità e quindi nel blog si scatena questa sorta di competizione appena mi arriva il libro lo devo leggere subito quindi a priorità rispetto agli altri libri e fumetti che intanto si sono accumulati in casa che magari non si è fatto in tempo a leggere perché la vita è imprevedibile non si ha sempre tantissimo tempo e le cose da fare sono sempre di più si è sotto pressione quindi non solo perché si è ricevuto un libro gratis e ci si sente in obbligo di leggerlo subito non solo ci si sente sotto pressione perché se non si legge subito qualche cosa e non si pubblica subito lo farà qualcun altro e avremo meno interazioni, meno visualizzazioni, meno successo tra virgolette non solo ci si sente sotto pressione a leggere subito questo libro perché se non si legge niente non si produce alcun contenuto e quindi il blogger va nel dimenticatoio a che cosa porta tutta questa pressione secondo voi? beh, nella stragrande maggioranza dei casi al blocco del lettore al rifiuto di leggere, di voler cercare, di collaborare con le case editrici di produrre magari contenuti inerenti a libri ricevuti magari anche gratuitamente perché ci si sente in obbligo di leggere e quando uno si sente in obbligo di fare qualche cosa molto spesso l'effetto che si ottiene è proprio quello di repulsione di non voler fare assolutamente quella cosa un altro aspetto da tenere in considerazione è che spesso quando esce un nuovo libro in genere la case editrice di punta lo manda a diversi blogger e attorno all'uscita di questo libro si crea tantissimo hype già magari da qualche giorno prima dell'uscita si iniziano a pubblicare foto, video, recensioni qualsiasi tipo di contenuto per creare aspettativa nel lettore per stuzzicarlo, per fargli venire voglia di leggere questo libro si crea quindi aspettativa spesso però la campagna diciamo che si fa per creare aspettativa e spingere il lettore a voler assolutamente comprare il titolo che sta per uscire sono un po' aggressive almeno per alcuni tipi di lettori io personalmente quando vedo un libro ovunque su tutti i profili magari Instagram che sto seguendo nella mia lista di iscrizioni ai canali YouTube vedo tutti i video, tutte le recensioni dello stesso libro e magari me ne guardo un paio e vedo che sono recensioni identiche perché magari queste persone hanno gusti molto molto simili magari si sono confrontate magari hanno lo stesso modo di fare le recensioni hanno modi molto simili magari di creare contenuti magari semplicemente è una coincidenza io da spettatrice perché prima di essere diciamo una book blogger sono una lettrice quindi usufruisco diciamo anche dei contenuti degli altri per lasciarmi ispirare per capire se un libro fumetto può fare o meno a caso mio io da spettatrice invece di essere invogliata a leggere questo libro mi viene proprio la voglia di leggere tutto tranne che quel libro è una cosa che mi è successa con ad esempio Nevernight in realtà ci sarebbero tantissimi altri esempi mi è venuto in mente Nevernight perché è stata la prima vera occasione in cui ho ricevuto decine di messaggi di persone che mi dicevano io non leggerò questo libro perché ne ho visto parlare troppo e mi è passata la voglia sto vedendo recensioni tutte più o meno uguali tutte ridosso dell'uscita e ne sono piena avevo curiosità nei confronti di questo libro ma ne ho sentito parlare così tanto che non so più se ho voglia di leggerlo io ovviamente non sono qua per fare la predica a nessuno non sono qua per dire cosa sia giusto che cosa sia sbagliato ma per dare il mio punto di vista da lettrice e da book influencer così come me ci sono tantissime altre persone che magari hanno iniziato a parlare di libri online spinti da una grandissima passione ma nel momento in cui sono un attimino cresciuti hanno iniziato a collaborare con altre persone le case editrici si ritrovano adesso in un punto in cui non hanno più così tanta voglia di condividere le loro letture online soprattutto se sono libri fumati magari ricevuti dalle case editrici proprio per via della competizione con colleghi fra colleghi sia per la continua pressione del dover leggere assolutamente un libro appena esce perché sembra che se leggi un libro dopo uno o due mesi dall'uscita allora il tuo contenuto non è più di valore non vale più niente come se i libri avessero una scadenza cosa che non è assolutamente vera e quindi tutte queste pressioni si sommano e allontanano un po' in alcuni casi le persone dalla lettura o comunque dalla lettura di certi titoli io mi sono trovata spessissimo in questa situazione penso comunque di avervene parlato in diverse occasioni sia qua sul canale che su Instagram quello che faccio io solitamente è non forzarmi mai di leggere anche se non esce una recensione a settimana sul blog ok sarà meno visto avrà meno interazioni meno cose ma non è quella la questione più importante bisogna ricordarsi perché si è iniziato a fare tutto questo perché ho iniziato a parlare di libri online sicuramente non per guadagnarci qualche cosa ma perché era la mia grande passione volevo trovare qualcuno con cui condividere quello che leggevo e quindi non bisogna dimenticarsi mai le proprie origini diciamo può capitare con una settimana in un mese non si legge niente va benissimo oltretutto non è sempre necessario parlare esclusivamente delle ultime cose lette nell'ultimo mese non avete letto nulla di nuovo scommetto che negli anni precedenti avete letto tantissime altre cose magari c'è quel libro fumetto che vi ha colpito per un modo in un modo o nell'altro in maniera positiva o negativa di cui potete magari parlare nuovamente oppure magari non ne avete mai parlato e potete ripescarlo tanto come vi dicevo i libri non hanno una scadenza basta pensare ad Harry Potter cioè quanti video, foto, post ci sono su Harry Potter è proprio uno di quei classici intramontabili ma così ci sono tantissimi altri libri magari anche sconosciuti e anzi meglio meglio se parlate di un libro di cui magari non sta parlando nessuno al momento vi ricordo che quando è stato? due o tre anni fa dovevo andare a Cefalonia avevo prenotato una vacanza per Cefalonia e volevo leggere un libro a tema e ho fatto una ricerca libri su Cefalonia mi erano venuti fuori due titoli in particolare uno proprio ambientato a Cefalonia l'altro invece era una sorta di saggio di Eva Cantarella l'amore è un dio ho cercato delle recensioni online e non ho trovato niente niente a parte Goodreads qualche piccola diciamo mini review ma ad esempio video o post ma anche su Instagram non c'era veramente nulla al riguardo quindi io sono andata molto a scatola chiusa il libro poi mi è piaciuto tantissimo e ho cercato veramente di consigliarvelo in ogni modo possibile perché mi sembrava una lettura veramente valida anche se era una lettura diciamo non facile perché comunque si tratta di un saggio un saggio diciamo storico su un argomento che in realtà può andare di moda diciamo nell'ultimo periodo però non era qualcosa di punta non era un'ultima uscita non era un fantasy o un qualche cosa che richiamasse particolarmente l'attenzione anche l'edizione eppure dopo che ne ho parlato tantissime tantissime persone hanno incominciato a leggerlo a consigliarlo a loro volta perché magari anche a loro era piaciuto la stessa cosa è successa ad esempio con Solanin di Inyozano non sono stata sicuramente la prima a leggere Inyozano non è questo che voglio dire io lo so che molte persone si prendono a cuore e dicono ah però hai letto quella cosa perché io l'ho letta per prima io l'ho consigliato e non mi hai citato io non penso questo nel senso che ci sono tantissimi libri che io magari ho letto anni e anni e anni fa e delle persone lo leggono adesso per la prima volta e lo consigliano e c'è gente che legge questi libri o questi fumetti perché consigliati appunto da persone che l'hanno detto adesso non è che io posso avere la pretesa di dire è però l'ho letto prima io è però è partito tutto da me l'ho consigliato per primo io non ha alcun senso non ha alcun senso secondo me è anche questo atteggiamento un po' snob da parte di alcuni book blogger o book influencer non fa molta community soprattutto diciamo fra colleghi non crea un bel clima io capisco che non si può stare simpatici a tutti io sicuramente non sono la persona preferita di tantissime persone però anche questo atteggiamento è di dire io l'ho letto per primo se tu l'hai letto è merito mio e questo o quest'altro non è un atteggiamento secondo me che crea serenità e ripeto io non ho questa presunzione nel dire ah io ho fatto conoscere questo titolo io ho fatto conoscere che so Missborn sono stata una delle prime forse a parlarne qua su youtube su youtube Italia probabilmente la prima ma non è merito mio esclusivo se tutte le altre persone che sono venute dopo di me diciamo hanno letto Missborn cioè non è che io sono il centro dell'universo oltre quindi a ricordarsi il perché si è incominciato a parlare di libri e fumetti online cercare di parlare non solo delle ultime novità ma anche di cose che si sono lette magari in passato soprattutto avere un atteggiamento non competitivo non snob ma di apertura e di condivisione secondo me possono aiutare a ritrovare serenità nella lettura perché secondo me la cosa più importante è questo non il cercare di sbloccare il blocco del lettore più velocemente possibile per ritornare sulla cresta dell'onda e parlare di tutte le novità di tutte le ultime uscite delle case editrici no secondo me è l'importante di trovare serenità essere a posto con se stessi spero di non avervi annoiato troppo con tutti questi discorsi spero di essere stata chiara ma nel caso ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se magari non ho affrontato bene un certo aspetto se non vi è chiaro qualche cosa o se volete raccontarmi il vostro punto di vista da lettori da lettori book blogger qualsiasi cosa veramente spero che da questo video nasca una discussione costruttiva e soprattutto che magari ci siano degli spunti di riflessione interessanti anche per voi io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao